Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per traffico intenso ci sono code in uscita alla strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A12 fare attenzione per vento forte segnalato tra Carrara e Colle Salvetti e tra Pisa Centro e l'allacciamento per l'Aurelia. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!